La storia di Fenomeno e di Marietta Torone, che per la città abbiamo scelto l'altra volta Solo Paga nel Novecento. Continuiamo quindi a leggere questi libri che riguardano Solo Paga e abbiamo l'occasione oggi di avere l'ospite d'autore, il nostro giovane Ci fa un immenso piacere avere l'ospite qua nella biblioteca da lui stesso fondata nel 1984 Questo l'ha sottolineato, l'importante istituzione culturale di Europa